Ancora ben trovati e ben trovate dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando sul tratto toscano della 1, dove restano code a tratti tra Badia e Aglio e tra Roncovilaccio e Calenzano, tutto in direzione sud. In A11 ricordiamo che l'area di servizio Migliarino Sud è chiusa per lavori fino al 22 agosto per chi viaggia verso Firenze. Un sguardo al traffico ferroviario per un guasto temporaneo, gli impianti di circolazione tra Brisighella e Faenza, i treni regionali sulla linea Faentina potranno subire ritardi e variazioni sino a 90 minuti. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze e per i cantieri al via, la prossima settimana segnaliamo quelli di pavimentazione stradale in via Restrozzi, le nuove condutture dell'acquedotto in via Panicale e gli interventi sui tombini di via Baracca. Sono previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per oggi è tutto, i nostri aggiornamenti tornano domattina alle 7.30.